Grazie a tutti, sei un campeonato europeo, come sentite? Sono veramente felice di questo risultato, perché comunque battere la campionessa in carica, Iaiza, 4-5 volte, se non mi ricordo che ha vinto il campionato europeo, quindi una campionessa che si è confermata in tanti anni e vincere è stata per me una soddisfazione incredibile. Perché hai scelto questa kata per la finale? Perché hai scelto questa kata per la finale? Il kata di finale che è il Chattayara, diciamo il kata che per me mi esprime nel migliore dei modi, quindi è stato apposta scelto questo per la finale. Nel tatami, quando sago sul tatami non penso, penso solo a lasciarmi andare, a esprimere me stessa al 100%. Ok, grazie, auguri, piacere il tuo medal.